Mister Juic, buonasera. Buonasera. Vedete un po' le frasi fatte da Mister, giusto? No, io penso veramente. Ieri è veramente pareggio risultato giusto. Io analiso io, io analiso partita, mia impressione. Io analiso partita, primo tempo noi abbiamo dominato. Io dopo primo gol ho avuto anche sensazione come di urtare uno che andrometta se calzetti. Cioè è proprio tutto facile, tutto facile. Esatto, tu puoi vincere facile. Invece secondo tempo no, secondo tempo è come quello che tu hai provato a urtare, si è alzato e lui che urta te. Certo è che occasioni, no? Sì, sì. C'è tipo se Favilli, no? Aveva capelli come Vidal, forse aveva gol. Perché c'è proprio tanto, tanto così. È poco poco, è vero, è vero. Più lunghi, una scianta, proprio. Dico, aspetta a tagliare i capelli. Non petare, non petare, aspetta che magari tipo se tu fa crescere i capelli come Branduardi magari tu puoi fare più gol. È mai stato al cinema con uno davanti con i capelli come Branduardi? Sì, una volta. Sono stato con Lucio di San Bernardino. Che salutiamo. E non ho visto niente. Però ecco, poi c'era anche secondo me rigore, forse. Ah beh, forse sì. Vabbè, però io non parlo mai male di arbitri. Se tu mi chiedi di sua sorella magari... L'Ellas è addirittura una squadra da Europa. Come risponde? Ma no, io penso veramente. Cioè, Elas è una buona squadra. Noi però dobbiamo dare sempre massimo, dare il 100%. Cioè, noi fa questi risultati perché dà massimo. Però non è squadra di Europa. Cioè, per farti capire, una squadra d'Europa è squadra che fa progetto, che non vende giocatori. Cioè, è come se tu dici, io sono Pitoco, no? Ecco. E voglio andare a fare vacanza al Caraibio. Bene, tu puoi farci. Tu metti via soldi. Sì. Tu mangi pane e bondola. Sì. Finciò di finso ora di cavei. Sì. Ok. Tu puoi andare. Prendi viaggio offerta di last minute, no? Sì. Ti porti via di mangiare a sacco. Eh, però al Caraibio. Ti ho capito. Prendi pacchetto solo colazione, no? È tua colazione all inclusive. Ti ingossi come porcelletto, no? Per così dici tiro l'ongo fino a cena, no? Cioè, tu magari imboschi brioci nei borsi, no? Ah, ho capito. E porti in spiaggia. Magari prendi acqua di camera e porti in spiaggia. Chi ha le onde si è calda come piso, no? Ti intambusi in villaggio tutta settimana senza mettere il naso fuori. Cioè, non fai nessuna escursione perché tu non hai soldi. Beh, proprio niente. Strangossi davanti a vetrine. Non mi dispiaceva. Io penso che tu fai vacanza che non ti diverti. Cioè, penso che tu, se sei Pitocco, è giusto che tu, magari per divertire fai vacanza tipo Punta Sabioni. Tu puoi anche fare vacanza di caraio, ma devi fare progetto. Cioè, io penso così. Cioè, questa è mia impressione. No, chiarissimo. Con quattro scan in più, allora tu puoi fare vacanza. Ma adesso, secondo me, noi non siamo in grado di fare vacanza di caraio. E il Presidente non ci sente ancora sotto questo punto di vista? Ma io, Presidente, ho visto solo l'ultima volta che lui ha pagato bere con Pisa Talio. Era avanzato un po' di spumaguizza, lui ha portato anche via. E il giorno dopo ha bevuto mara calda come Pisa. Eccolo! Bocca al lupo per l'Ellas. Viva lupo, viva tutto. E speriamo di fare bella partita anche contro Lazio.